ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi andremo a trovare ciccio il suo pony vero chiama il pony senza aspettare andiamo subito in campagna andiamo 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 si cancello eccoci siamo in viaggio e stiamo andando da ciccio siamo emozionati andiamo a galoppare sul piccolo pony si chiama ciccio ciccio arriviamo con il pony galoppiamo noi arriviamo si è emozionata? 5 siamo arrivati andiamo a trovare a ciccio eccolo ciccio andiamo andiamo dammi la manina corriamo insieme ciccio ciccio lo andiamo a chiarizzare lo pettiniamo ci aspetta zio mariano eccoci ciao ciccio ciao nico buongiorno guarda chi c'è ciao ciao ciccio con la corda rossa la cabeza rossa wow ciccio sei bellissimo con la frangetta che carino che carino prima li diamo da mangiare lo pettiniamo diciamo a tutti lui chi è ciccio prendiamogli l'erba vieni brava brava vedi come mangia l'erba guarda che frangetta non ha più fame andiamo a prendere il pieno vieni lui non la mangia amore lui è un cagnolino non mangia l'erba andiamo a prendere il pieno la ciccio la ciccio la ciccio la ciccio prendiamo il pieno la ciccio 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 vieni 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 tieni tieni non lo vede il cane no amore il cane non mangia dalla ciccio vieni ciccio tieni 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 che dici lo vogliamo pettinare insieme tieni la spazzola ciccio brava brava così guarda sopra verso il basso brava il basso il basso ecco brava da sopra guarda ti fa vedere Gio da sopra verso il basso bravo ciccio accarezzano un po' piccolino piccolino è bello bello la mano no la mano no tieni facciamo fare una treccina bellissima quanto è piccolino gli do un abbraccio perché è troppo bellino vuoi fare una treccina bello zio prende il codino aspetta vieni l'elarco guarda la treccina wow prendete un elastico dai un elastico un elastico uno guarda zio vincenzo che bella treccina voilà wow la treccina zizio quanto è bravo guardalo come si sta non dice niente stai facendo vincenzo non sa fare molto però ci prova vedi guarda che bello una treccina nuova opla wow ecco qua ciccio fai vedere che bella treccina faccio la ciccio faccio la ciccio dai wow dai spazzolando ciccio wow brava 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 ti aiuto vai da sopra verso il basso brava è pulito bravo ciccio mangia mangia ciccio mangia tanto c'è una nata all'erba questa la carota la carota ciccio brava bravissima brava ciccio ti mangia le carote guarda quanti bei fiori pure tieni tieni ciccio tieni ciccio ecco la presa mania mano aperta mano aperta aperta brava bravo ma ma come la mangi tu te la stai mangiando tu ma no è per il cavallo l'ha provata per vedere che fosse giusta per te quando è bellino mangia la carota ciccio ma come tu ciccio ti mangia la tua carota ciccio si sta mangiando la tua carota di ehi quella è la mia carota ma come non gliela dai ciccio la mangi tu parzellino parzellino guarda gli ho dato un bacio bravo guarda zio mano ci fa mettere il balsamo sulle unghie vuoi mettere lo smalto al cavallo? vai al pony questo è il balsamo smalto per i pony che bello zio ti fa vedere come guarda tutta la corona dell'unghia tutta bravissima tutta brava brava dammi la manina portiamone insieme andiamo ciccio andiamo corriamo andiamo da ciccio portiamo il piano con la carriola eccoci ciccio siamo ritornati ciao a tutti ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video dove faremo una lezione di abitazione e Nicola andrà su ciccio vero? ciao al prossimo video ciao what 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 you what you 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 Grazie a tutti.